speriamo che non abbia questo virus signore guarda mi se lappa la bocca ogni giagno lefandigliole e poi sull'occhio vengo tutto sfocato me dai una guardata che vai cercando figlio tu anche quando fai una rampa di scale pare che mori ma non voglio questo gesto di scarcangami o di breccia e vieni qua fai lo buono fai lo buono mettete a sedere qua te ce guardo basta che te stai zitto io qua fammi abbia la bila apri questa bocca fammi vedere dai io più che li funghi mi sa chi ha mangiato l'aglio che stai a fare io ancora non si è messo la mascherina ha voluto verniciare la ringhiera del reparto e ha respirato l'acqua rascia ma che sei stupido vedi le sbrigate e vi resta a calma tu tu vanni a casa che non ti teni ritto e tu vedi da meno mai c'è un melo mamma mia questa sembra d'orge come l'aceto oh se vai a far spesa a comprarmi la carne macinata che voglio fare borbetto e ci sentimo dopo ciao eccomi maria che ti serve sai che per vestire con lo scafandro ci vuole mezz'ora ho fatto la notte non mi tengo ritta non ti ci metti pure te no ho portato lo caffè glielo vuole vedelo te maria che sai lo stai guardi con la mascherina che non li trovo signore ci mancava questa che tocca arvestirla ma che faci la frutta rola prima ma vanno e vanno chi fatto dov'è il suci per esso fatti i ragazzi due oh non ne posso più le fare la notte che c'è da ruspici l'ho fatta pure io incapito qui non ne buttimo più ogni ciò tocca dalla sena ma uno con andro ciao 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 Grazie per la visione!